26 novembre 1871 Nasce in provincia di Catania Luigi Sturzo, presbitero e uomo politico italiano. Nel 1919, negli anni del non-expedit pontificio, fonda il Partito Popolare Italiano, un'organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, la cui fisionomia è precisata nell'appello a tutti gli uomini liberi e forti. Con l'avvento del fascismo, nel 1924, Don Sturzo è costretto a un lungo esilio, prima a Londra, poi negli Stati Uniti. Torna in Italia da New York nel 1946.